Una buona serata e benvenuti a questa seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo. Con la viabilità una nuova lettera firmata, strada dei parchi con cui la società ribadisce di voler lasciare anticipatamente la gestione delle autostrade A24 e A25. La situazione infatti a partire dalla mancata approvazione del PEF è ancora in fase di stallo, il servizio di Giuseppe Dintino. Il gruppo Toto non vuole più le A24 e A25. Con una nuova lettera indirizzata al Ministero delle Infrastrutture, strada dei parchi ribadisce l'assoluta volontà di recedere dalla concessione. La seconda emissiva arriva a due settimane di distanza dalla prima e il contenuto è sostanzialmente immutato. La società per azioni intende anticipare la rescissione del contratto, la cui naturale scadenza è prevista per il 2030. Questo perché la situazione è in stallo ormai da anni e nessuno sembra intenzionato a sbloccarla. Il piano economico finanziario, atteso da quasi un decennio, non è mai stato approvato, benché il Consiglio di Stato in questo tempo abbia nominato tre commissari ad hoc. L'ultima bozza, quella presentata dal commissario Fiorentino, prevedeva graduali aumenti del costo dei pedaggi fino al 375% ed è stata bocciata dal CIPES. La mancanza del PEF rimanda a tutta una serie di lavori, a partire dalla messa in sicurezza delle infrastrutture. Quella antisismica, le A24 e A25 sono ritenute arterie strategiche dal sisma del 2009, ma anche quella per l'attraversamento degli animali selvatici, di primaria importanza per delle autostrade che percorrono dei parchi nazionali. Intanto in quattro procure sono in corso delle inchieste per la mancata manutenzione dei viadotti. Strada dei parchi, quindi, con questa seconda lettera aumenta le pressioni sul governo e non è detto che la rinuncia sia solo un blef. Infatti la società del gruppo Toto, in caso di rescissione anticipata, avrebbe diritto a un indennizzo. Indennizzo quantificato in 2 miliardi e 400 milioni di euro. E la somma di varie voci, tra cui mancata remunerazione degli investimenti, mancati incrementi tariffari, mancati introiti fino al 2030 e altro. Sullo sfondo, una condizione economica già di per sé poco idilliaca, tra costi di manutenzione e oneri covid non rimborsati, il ministero è in debito con strada dei parchi per oltre 300 milioni, potrebbero essere 430 entro fine anno. Al contempo strada dei parchi, secondo la Corte dei Conti, è a sua volta in debito con ANAS per circa 75 milioni. I sindaci intanto restano sul piede di guerra, in attesa dell'aumento del costo di percorrenza del 34,5%, già più volte rimandato. In un'audizione alla Camera, il ministro Giovannini ha ribadito la volontà che l'attuale blocco delle tariffe, previsto al 30 giugno, venga prorogato al 31 dicembre. Una dichiarazione che, seppur dovesse essere supportata dai fatti, non soddisfa i primi cittadini, in quanto non si tratterebbe di una soluzione definitiva, ma di tenere sospesa ancora un po' questa spada di Damocle. Bollettino Covid odierno, sono 670 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Il tasso di positività è al 10,97%, si registrano due decessi recenti. Il bilancio delle vittime sale così a 3340. In calo i ricoveri, 172 pazienti, meno 6 sono ricoverati in ospedale, in area medica e 3, numero invariato, sono in terapia intensiva. Tutti gli altri sono in isolamento domiciliare. I guariti, in più rispetto a ieri, sono 865. Vediamo le variazioni provincia per provincia. 143 casi in più rispetto a ieri in provincia dell'Aquila. 215 in provincia di Chiedi, 141 in più in provincia di Pescara, 139 in più in provincia di Teramo. 10 sono persone che risiedono fuori regione, mentre per le altre 21 sono in corso verifiche sulla provenienza. Innaugurata a Pescara presso il centro pulifunzionale Britti, il murale è realizzato dall'artista Alessandra Carloni nell'ambito del Murap Festival 2021. Paolo Renzetti. Assessore, nell'ambito di Murap Festival oggi viene inaugurata un'altra opera d'arte, la possiamo definire così al Palabritti? Un'opera d'arte che rappresenta un valore sia artistico, perché è veramente un'opera che avete visto molto 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 bella, ma soprattutto siamo anche contenti che l'opera sia dedicata a due persone che hanno assunto un ruolo fondamentale per la rinascita di questo quartiere, per la rinascita di San Donato. Da una parte abbiamo fatto una commissione proprio di cittadini che hanno voluto la rappresentazione in questo murale di due figure cardine. Un parroco, un parroco d'azione, Donitolo Febbo, che negli anni 60 e 70 ha praticamente assunto un ruolo fondamentale all'interno di questa zona proprio per quella rinascita che oggi vediamo e tante di quelle problematiche che c'erano all'epoca con un quartiere riconosciuto come quartiere detto oggi riscontrato e che non c'è praticamente più nulla, di questo è un motivo di cui andiamo fieri anche noi. E d'altra parte una persona che ha assunto lo stesso ruolo, sempre lo stesso periodo, il preside da Scuola Media Foscoli, il preside Fulvio Luciani. Oggi siamo contenti che quest'anno ricorre anche il decennale della sua scomparsa a cui abbiamo voluto, anche i cittadini hanno voluto dedicare questo murales. Quindi due funzioni, due persone importantissime per la rinascita del nostro quartiere. L'obiettivo, come diceva anche il sindaco nel momento dell'insediamento della nuova giunta, è quello di portare le periferie al centro. Guarda, ma noi non è che vogliamo, noi lo portiamo. Oggi se noi vediamo ti ricorderai sicuramente come era il Britti, come l'abbiamo ereditato, questa struttura adesso è una struttura bellissima. Oggi abbiamo ragazzini, abbiamo un centro sociale per anziani che è qui dentro. Lo scorso anno abbiamo inaugurato il campo da pallacanestro, che vi invito anche a verificare, qui dietro è un campo di calcetto. Guardiamo qui a fianco, ieri è stato il primo giorno d'apertura del presidio dell'AS, giusto qua dietro. Abbiamo la strada Pendolo che sta per essere un'ultimata, verrà inaugurata nei prossimi giorni. Quindi non è un obiettivo la periferia. Possiamo dire che una realtà di questa amministrazione portare al centro della nostra attenzione politica e alla periferia. E i dati ci danno ragione perché li possono rispondare tutti i cittadini. Parliamo adesso di elezioni amministrative. Francesco Terra è il candidato sindaco di Ortona tra le schiere di Ancora Italia. Rappresentiamo il vero cambiamento addetto al Tg6. Lo ascoltiamo. Quali sono i punti chiave del suo programma? Qual è la prima cosa che farebbe se fosse eletto sindaco? Quando non sei contento di un'amministrazione, quando non sei contento di come sono state gestite le cose, quando per propria convinzione e per proprio giudizio si sono osservate tante cose sbagliate e quindi si trova un ambiente sporco, un ambiente disfunzionale. Cosa si fa? Si aprono le porte del comune e il sindaco Terra con la sua squadra andrà e ripulirà tutto, sgombrerà tutto, eliminerà tutta la vecchia macchina, quella mala gestio, verrà eliminata tutta. Si puliscono i locali, si puliscono gli ambienti, i settori e che cosa si fa? Si guardano le cose che non vanno e si gettano. Qualcosa di buono che sicuramente sarà stato fatto si conserva e si prosegue. Questo andremo a fare. Votare Francesco Terra e mettere una croce sul simbolo Ancora Italia perché è l'unico partito che sta scommettendo su Ortona, ma non a chiacchiere. Noi non vi porteremo Diego Fusaro, Francesco Toscano, i big del partito o anche i senatori che già hanno aderito a Ancora Italia. Non abbiamo bisogno di fare queste parate che non servono. Il segretario regionale ha già impiantato la segreteria regionale a Ortona, sta già spendendo soldi a Ortona, pagando le tasse a Ortona, sostenendo i commercianti di Ortona, abita Ortona da 5 anni. Quindi scegliete ancora Italia perché è il partito che sta scommettendo su Ortona, scegliete Francesco Terra perché ha messo tra i suoi candidati consiglieri tutte persone buone, nel senso che pensano ovviamente ai loro interessi, al loro bene, ma anche a quello dei cittadini e sono persone colte nel senso che sono tutti professionisti come me che ogni giorno che cosa fanno? Non contano le lauree o i master che abbiamo attaccati sulle pareti. Colto vuol dire che qualsiasi lavoro fai ogni giorno ti migliori. Io ho fatto una squadra così. Il Ministero dell'Istruzione e della Ricerca ha finanziato con oltre 6 milioni di euro il progetto Demetra alla Facoltà di Veterinaria dell'Università di Teramo. Il Dipartimento Teramano è stato infatti riconosciuto come eccellenza nazionale e attuerà una filiera animale sostenibile. Tania Bonnici Castelli. Il progetto Demetra per una filiera animale sostenibile decolla. Finanziato dal Ministero dell'Istruzione e della Ricerca con 6 milioni e 500 mila euro sarà attuato dalla Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università di Teramo, facoltà risultata al secondo posto in Italia tra i 10 dipartimenti ammessi al finanziamento. Demetra, acronimo di distribuzione delle risorse alimentari attraverso un metodo per la riduzione degli sprechi e la solidarietà sociale sostenibile, sarà coordinato dal Professor Fulvio Marsiglio, ordinario di malattie effettive degli animali. In che cosa consiste concretamente questo progetto? Si è occupato proprio di tracciare alcune linee guida proprio nell'ambito dell'allevamento sostenibile. Si parla tanto di produzioni sostenibili, di allevamento sostenibile. Noi abbiamo cercato di mettere in pratica quelli che sono gli obiettivi che l'ONU ha dato negli ultimi anni e riguardavano proprio lo sviluppo sostenibile da qui al 2035. Siamo stati finanziati con 6 milioni e 500 mila Euro, quindi si tratta di un finanziamento importante che ci ha permesso non solo di fare di reclutare del nuovo personale strutturato, ma anche di creare per esempio nuove borse di studio di dottorato, per esempio fare assegni di ricerca, riuscire ad organizzare una nuova iniziativa didattica che è una magistrale proprio nell'allevamento sostenibile degli animali. Insomma abbiamo cercato di dare il nostro contributo in questo senso. La Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università di Teramo è tra i 180 dipartimenti di eccellenza scelti dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario per il quinquennio 2018-2022. Ci siamo arrivati intanto con l'impegno di tutti i colleghi e soprattutto pensando a tre argomenti a mio avviso straordinari, quali l'ambiente, l'antimicrobico, l'antibiotico resistenza e le biodiversità. Tre argomenti con tanti obiettivi che hanno fatto sì che il nostro progetto fosse praticamente finanziato. A proposito di ambiente, voi curate gli animali, ma questi cinghiali che girano a Roma indisturbati, lei che consiglio darebbe a questa città? Forse sono stati fatti in generale degli errori qualche anno fa quando sono stati introdotti dei soggetti dai paesi dell'est perché in realtà il nostro cinghiale non è stato mai un soggetto prolifico, mentre i soggetti introdotti allora per attività venatorie sono stati molto molto prolifici. Secondo me la volontà di mettersi a tavolino, di studiare la situazione tra persone competenti e la soluzione si trova. C'è poi un'ultima novità che riguarda l'Ateneo Terramano. Il Rettore Mastrocola ha annunciato l'imminente pubblicazione del bando per la riqualificazione dell'ex manicomio, un progetto da 32 milioni di euro, anche questo in fase di decollo. Il sindaco di Penne Gilberto Petrucci ha inviato un messaggio di cordoglio per la prematura scomparsa di Donato Di Marco Berardino, già sindaco di Penne ed esponente della sinistra pescarese. A nome mio personale dell'amministrazione comunale esprimo il più sincero cordoglio per la scomparsa di una persona che ha contribuito a scrivere la storia politica della nostra città. Amministratore comunale e provinciale di lungo corso e sindaco di Penne dal 2006 al 2011, Di Marco Berardino è stato punto di riferimento importante per l'area Vestina. Dopo l'esperienza politica ha continuato il suo impegno nel settore sociale, in particolare nella fondazione Foggi, di cui è stato protagonista fin dalla sua Costituzione. Uomo umile, sempre a disposizione della comunità. Mi stringo al cordoglio della moglie, dei figli e dei familiari tutti. Lo faccio da sindaco, interpretando di certo il pensiero della città che lo ricorda con affetto. L'assessorato alla cultura del comune di Pescara ha presentato il programma delle attività dell'Associazione I Borghi della Riviera. D'Annunziana, vediamo. Oggi in conferenza stampa avete presentato le iniziative dei Borghi della Riserva d'Annunziana, questa associazione che proporrà diversi eventi in estate in città. Sì, degli eventi molto importanti che vanno a confluire in tutte le attività della rete permanente del libro e della lettura che come amministrazione comunale stiamo cercando di promuovere e valorizzare sempre di più. La lettura è tanto importante, soprattutto nel periodo di pandemia. Molti hanno riscoperto la lettura perché era difficile relazionarsi, era difficile stabilire incontri con gli altri. In quest'anno di ripresa ritornano, così come c'erano stati anche negli anni precedenti, le possibilità di incontro per confrontarsi sui libri. Vogliamo parlare un po' di alcuni eventi che si terranno quest'estate in città? Sì, grazie all'Associazione I Borghi della Riviera d'Annunziana abbiamo organizzato alcuni eventi anche in continuità di quello che abbiamo fatto negli anni precedenti. principalmente sono i gelati letterari che facciamo sulla terrazza La Playa. Lì siamo al quarto anno e sono dieci giovedì di tutti e tre i mesi estivi. Una cosa molto impegnativa che coinvolgerà per ogni serata tre autori, tre intervistatori e anche un artista. Quindi sono serate ricche e anche divertenti perché lo facciamo in un ambiente marino gustando un gelato. Tre eventi tra gli altri sono quelli del notti di luna piena. In occasione della luna piena, nel sabato più vicino, noi faremo delle kermesse dove coinvolgeremo autori e scrittori per recuperare sia gli autori del passato perché non devono essere dimenticati e quindi la cultura poggia sulle loro spalle e poi anche agli autori contemporanei in modo da fare delle serate di grande interesse. Andrà in scena al Marrucino proprio nel giorno della liberazione di Chieti lo spettacolo che racconta le storie di quanti contribuirono alla libertà dall'occupazione nazifascista. Selenia Secondi. Il 13 giugno del 1944 Chieti fu liberata dai tedeschi. Alla giornata di liberazione e alle vicende di quanti diedero la propria vita in nome della liberazione il gruppo teatrale Cuncaterra ha dedicato lo spettacolo che appartiene alle manifestazioni per il 25 aprile e andrà in scena il 13 giugno al Marrucino quando il grano maturò storia di gente resistente die con Marcello Sacerdote alla regia di Laura Curino. In questo spettacolo narriamo le vicende di donne, uomini, bambini, anziani che diedero la loro vita per liberare la loro storia liberare il proprio territorio da un'oppressione, da un'ingiustizia sociale e per poter riconsegnare alle generazioni future il senso della libertà, della fratellanza, della solidarietà, del vivere civile per questo che abbiamo scelto di dare un'anteprima di questo spettacolo che si intitola Quando il grano maturò nel giorno in cui ricorre la liberazione d'Abruzzo 13 giugno 1944 in cui fu liberata Sulmone e nei giorni successivi altri importanti centri abruzzesi. Questo progetto fa parte delle iniziative programmate all'interno delle manifestazioni del 25 aprile il gruppo teatrale Punta Terra ci ha donato un estratto un'occasione appunto di quelle giornate e questa opera rappresenta quello che è l'indirizzo di questa amministrazione cioè essere capaci, strumento di mettere in rete quelle che sono le potenzialità di associazioni teatrali, culturali, musicali che raccontino della nostra storia e che diano il giusto valore a quella che è la nostra memoria di Chieti ma non solo Fare prevenzione per salvare più vite possibili è l'obiettivo della Ollus Lorenzo nel Cuore che ad Atri realizza visite specialistiche gratuite nel ricordo dell'avvocato Lorenzo Literio Stefano Recanati Visite cardiologiche del respiro ed ortopediche Punta tutto sulla prevenzione l'associazione Lorenzo nel Cuore progetto intitolato a Lorenzo avvocato morto per un aneurisma alla orta all'età di 43 anni Sì, sono assolutamente d'accordo è il miglior modo per ricordare Lorenzo da parte di tutti i familiari perché da questa tragedia abbiamo cercato di far nascere questa iniziativa per aiutare gli altri e soprattutto per fare prevenzione Lo studio medico messo a disposizione dal comune si trova nel Cuore di Atri all'interno del Palazzo Illuminati diversi professionisti volontari medici, infermieri che hanno deciso di mettersi a disposizione dell'associazione ma soprattutto della collettività Ci tengo a precisare che tutti ci stanno aiutando e dando il loro contributo gratuitamente quindi senza di loro non ce l'avremmo fatta e soprattutto anche grazie all'aiuto del comune che ci ospita in questa bella location Le visite cardiologiche sono rivolte in primis ai cittadini atriani mentre quelle ortopediche e respiratorie sono rivolte a tutti Sì, questo è un servizio sicuramente complementare che all'ospedale con cui cerchiamo anche di collaborare abbiamo instaurato anche un rapporto fondamentale però ripeto è la prevenzione perché Lorenzo attraverso degli screening di prevenzione si sarebbe potuto salvare ed è quello che cerchiamo di fare qui È fondamentale però mantenere l'associazione in vita più a lungo possibile anche grazie al 5 per 1000 Sì, a proposito di vita, viva la vita perché noi cerchiamo proprio di promuovere la vita e la salute il 5 per 1000 per noi è fondamentale perché abbiamo spese vive di gestione anche se siamo tutti volontari però abbiamo acquistato gli apparecchi cardiologici che costano e abbiamo le spese di gestione da portare avanti quindi ci potete aiutare veramente col cuore visto che parliamo di Lorenzo nel cuore con il vostro 5 per 1000 con la dichiarazione dei redditi ricordo il codice fiscale per fare il versamento del 5 per 1000 che è 900 2017 06 77 E allora Reto Aprutino si sta lavorando per il processo di candidatura UNESCO del Bue di San Zopito un rito, quello dell'inginocchiamento che vanta oltre 300 anni di storia tanto che ieri pomeriggio si è rinnovato davanti a migliaia di spettatori Si è rinnovato ieri pomeriggio all'Oreto Aprutino il rito dell'inginocchiamento del Bue La festa di San Zopito si svolge da lontano 1711 e prende spunto da un'antica tradizione popolare che vuole l'inginocchiamento spontaneo di un Bue bianco durante il trasferimento delle reliquie proprio di San Zopito Martire da Pene a Loreto il lunedì di Pentecoste A distanza di due anni e dopo l'edizione ristretta a causa della pandemia il Bue è tornato ad inginocchiarsi in piazza Garibaldi alla presenza di tanti turisti provenienti anche dall'estero La festa patronale e purtroppo in molti comuni c'è anche difficoltà a celebrare la festa patronale e qui nonostante difficoltà è molto sendita ci sono molti devoti e con molti sforzi si organizza addirittura tre giorni e grazie alla compagnia dei vetturali riusciamo a far rivivere tutto ciò quello che è legato al Bue Da circa un anno il comune di Loreto Aprutino unitamente alla compagnia dei vetturali sta lavorando al processo di candidatura UNESCO del Bue Il progetto vede coinvolte 18 comunità italiane tra cui Viterbo e Larino riunite in un unico consorzio di salvaguardia e valorizzazione di un complesso di cerimoniali legati a processioni con carri o giochi trainati da bovini Questo processo di candidatura inoltre coordinato dal Ministero dei beni culturali è supportato dal Ministero delle politiche agricole Il gruppo ha il nome di Uomini, Buoi e Fiori ed è veramente l'identità non solo di tanti paesi del sud Italia ma in particolare del nostro Molise e dell'Abruzzo Un tempo eravamo gli Abruzzi adesso la nostra piccola regione torna a ricongiungersi con le tradizioni anche dell'Abruzzo perché abbiamo delle radici culturali nonché fideistiche insieme E adesso apriamo la pagina di sport partiamo ovviamente dal Pescara nei prossimi giorni infatti si saprà il nome del nuovo allenatore dei Biancoazzurri intanto la società è a lavoro per la cessione di due gioiellini come Davide Veroli e Marco Delle Monache ne ha parlato ieri sera a Replay la gente di entrambi Carlo Di Renzo Davide Veroli e Marco Delle Monache al pari di Alessandro Sorrentino sono stati i giovani che hanno favorevolmente impressionato tra le poche note liete della stagione appena chiusa dal Pescara e sono diventati pezzi pregiati del mercato dalle loro eventuali cessioni la società potrà trarre risorse per la programmazione della prossima annata ieri sera a Replay la gente di entrambi i calciatori Carlo Di Renzo ha fatto il punto della situazione tanti club in particolare Diac si sono informati e che nei prossimi giorni potrebbero presentare offerte ufficiali visto che al momento sia in una fase embrionale dei contatti cremonese e udinese sulle tracce di Veroli Fiorentina e Sampdoria su quelle di Delle Monache sono due ragazzi che come sapete tutti sono attenzionati dai grossi club siamo ancora in fase embrionale con tutti perché come state vedendo cambiano dirigenti, direttori e società in continuazione quindi dobbiamo un attimo aspettare appena ci sarà l'occasione faremo questa cessione Lo stesso di Renzo dice la sua su quello che può essere il futuro di entrambi in caso di cessione del cartellino Veroli, difensore classe 2003 ha messo insieme 24 presenze 21 da titolare tra campionato, playoff e coppa dimostrando anche una notevole versatilità l'esterno d'attacco Delle Monache classe 2005 ha iniziato ad allenarsi in prima squadra in pianta stabile nella seconda parte della stagione mettendo insieme 7 presenze tutte da subentrante oltre che convocazioni con la nazionale Under 17 di Bernardo Corradi Io penso che per quanto riguarda Davide Veroli sia pronto per fare un salto importante pronto per fare un salto in B o anche in A e a giocarsi le sue carte mentre invece per quanto riguarda Marco io penso che sia la soluzione migliore quella di rimanere un anno a Pescara perché essendo un 2005 se vai in un grosso club sicuramente verrà ridottato in primavera e allora al posto di fare un passaggio in primavera meglio giocare un campionato a Pescara in un club che lo conosce in una società che lo conosce dove il ragazzo magari si sente ancora a casa Col DS Inpector e Dellicarri già a lavoro cresce l'attesa per il nuovo allenatore questo secondo Di Renzo l'identikit ideale Per venire a Pescara deve essere un allenatore propositivo un allenatore che ridia un po' di entusiasmo attaccamento alla maglia perché quest'anno non si è visto per niente l'attaccamento alla maglia di questi ragazzi e un allenatore che faccia un gioco abbastanza offensivo e di intensità Altri giorni invece di sostanziale attesa a Teramo con gli amministratori giudiziari che hanno dato ancora qualche ora per eventuali manifestazioni di interesse che non va dimenticato dovranno dare certezze a lunga scadenza Giornata interlocutoria con attesa di ulteriori sviluppi non si può definire diversamente quella di ieri per il Teramo che attende ancora risposte riguardo al proprio futuro la vera domanda è in questo momento per quanto ancora è legittimo e lecito attendere prima di avere un quadro delineato dell'avvenire in casa biancorossa la sospensione con rinvio a data da definire ma con ogni probabilità in settimana comunque la si veda è l'ulteriore certificazione che i tempi dovranno essere ancora più rapidi perché gli adempimenti sono tanti e lo spazio temporale per metterli a posto brevissimi se c'è un'ipotesi di lavoro tuttavia ci si augura non abbia il respiro corto di chi vuole solo prolungare un redderazionem che prima o poi ci sarà in ogni caso e se si perde del tempo adesso per arrivare ad un nulla di fatto il tentativo sarà stato vano e controproducente a questo punto si va al tentativo secco gli amministratori giudiziari hanno concesso ancora qualche ora per valutare se ci siano delle manifestazioni di interesse e cosa di cui non si parla mai la loro effettiva consistenza per intenderci è complicato immaginare un semaforo verde per un salvataggio che però faccia ripiombare il diavolo nel baratro tra poche settimane normale che la tifoseria speri e chieda a gran voce l'iscrizione ad un campionato che il Teramo sul campo ha confermato di meritare ma questo non può non passare anche dalla valutazione del fatto che non esiste solo l'iscrizione saldato il tutto ammesso che ci si riesca e lo si faccia in settimana poi ci sarà da provvedere all'allestimento di un organico competitivo al reperimento di uno staff tecnico in grado di guidare un roster ancora tutto da definire da mettere in cantiere le risorse che servono per la gestione della stagione sportiva che verrà e serve anche l'accordo per il Bonodis che tuttavia almeno finché Iachini sarà dentro la compagine societaria dovrebbe essere ostacolo facilmente superabile gli adempimenti fuori dal campo sono moltissimi quelli quando la palla comincerà a rotolare se possibile anche di più ecco perché il Tribunale di Roma prima di dare l'avallo vuole capire bene se i tentativi che si fanno hanno un respiro più o meno corto inoltre adesso c'è l'incognita delle lancette andare avanti alla ricerca di qualcuno è operazione che può essere tollerabile entro e non oltre questa settimana superata la quale forse converrebbe iniziare a fare ragionamenti diversi per evitare di perdere davvero tutto questo era il nostro ultimo servizio vi ricordo che i nostri servizi sono a disposizione sulla piattaforma Youtube e anche sul nostro sito web www.tv6.it e questa sera vi ricordo torna la seconda stagione di Visionaire prima puntata ovviamente Giuseppe Dentino con i suoi ospiti dunque appuntamento da non perdere alle ore 21 alle ore 23 invece torna l'edizione della notte del nostro TG6 è tutto grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata grazie per la visione